Il convegno è un momento di discussione sulla costituente delle idee, non è la formazione di una corrente, non è il sostegno a questo, a quel leader di partito. Noi vogliamo partire dai programmi, dai contenuti. I nostri contenuti sono contenuti sociali, legati al lavoro, allo sviluppo sostenibile, siamo contro il presidenzialismo. Quindi questo è il nostro punto di partenza, offriamo la possibilità di un dibattito ampio, plurale, della sinistra plurale, nel momento in cui si sta costruendo il nostro dibattito congressuale come Partito Democratico.